Siamo qui a Neive, ci siamo soffermati prima di arrivare dal Cascinale che poi vi andremo a mostrare, perché volevo farvi ammirare le nostre fantastiche colline. Neive è uno dei borghi più belli d'Italia, bellissimo per le sue caratteristiche, soprattutto il centro storico. Andiamo a visitare il Cascinale, seguitemi! Eccoci arrivati dalla casa, come potete vedere è un tipico Cascinale piemontese, lo potete capire dai materiali, classico mattone a vista, mattone rosso, classico delle nostre zone. Qua ci troviamo a cinque minuti da Neive, cinque minuti di macchina da Canelli, siamo tra le colline di Langa e Monferrato. Diciamo che il Cascinale ha tantissimi punti a favore. Uno tra tanti è l'indipendenza, non facile da trovare, e questo fantastico terreno circostante, attualmente piantumato a frutteto, che gira tutto attorno al Cascinale. Anche se non siamo in una zona collinare, però possiamo godere di questa, diciamo, fantastica vista a 360 gradi sulle nostre colline. Dicevo prima, sono aspetti molto difficili da trovare nelle Langhe. Un Cascinale di 250 metri quadrati, indipendente a quattro lati, ha un prezzo veramente competitivo. Per ulteriori informazioni potete contattarcelo 0173 28 73 73, oppure potete visitare i nostri siti www.chicasa.it o www.housesimpiedmont.com.